Incendio nella notte lungo la strada statale 18 nei pressi del paradiso Agripestum. Infiamma alcune serpaglie che si trovavano nel fondo agricolo adiacente all'attività commerciale. L'incendio, con tutta probabilità di origine dolosa, si è sviluppato intorno all'1.30. Il ruogo alimentato dal vento ha poi raggiunto anche i cassonetti utilizzati dal locale commerciale per la raccolta differenziata della spazzatura. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme.